Si pronuncia welfare ma leggi stato sociale e che può essere definito come uno stato che vuole garantire ad ogni suo cittadino, come diritto politico e non come carità, degli standard minimi di reddito, di alimentazione, di salute, di abitazione e di educazione. È pertanto un'organizzazione istituzionale, politica e economica che si pone come obiettivo la produzione di benessere e di sicurezza sociale attraverso la politica. Secondo Bene Comune a Fano questo progetto non è mai nato, nonostante in passato ci siano stati fiebili tentativi di metterlo in essere. Per rilanciare questo tema Bene Comune in collaborazione con l'Associazione L'Alveare ha posto in essere due incontri, il primo il 3 ottobre e il secondo il 14 ottobre prossimi alle ore 16.30 nella sala del Consiglio Comunale di Fano. In questo momento di crisi economica così lunga, che ha messo così a dura prova le famiglie. Ci pare importante effettuare un'analisi di quelle che sono le politiche sociali attuate dalla nostra comunità, nella nostra regione, nel nostro Comune e anche eventualmente riuscire a dare alcuni spunti per quelle che potrebbero essere iniziative più efficaci di tutela appunto della società, della collettività. Ci sono quattro problemi nel welfare di Fano. C'è il problema della regione Marche che lo deve rifinanziare a livello appunto collettivo, c'è il problema dell'ambito con tutte le conseguenze che abbiamo visto in questi giorni, c'è il problema di un Comune che non ha mai creduto a fondo da tanti anni a questa parte, da 16 anni a questa parte in questa esperienza, quindi non vogliamo dare le colpe specifiche all'amministrazione attuale e c'è il problema di una fondazione che spesso è andata per conto suo. Questi quattro temi affronteremo nel primo dei convegni, proponendo anche delle esperienze innovative e significative. Il 3 di ottobre, sabato, qui invitiamo veramente la cittadinanza di Fano e della Valate Limitrofe. Poi il 14 novembre faremo un altro punto con altri relatori, tra cui anche dell'Università di Urbino, per parlare di come si può lavorare insieme, uniti, per costruire un nuovo progetto di welfare.